Allora, questa è una magia magnetica. Per fare questa magia abbiamo bisogno di pochissime cose, pochissime cose quindi ce le avete sicuramente in casa, spero tutti, il solito palloncino, una bacchetta magica, cannuccia. Allora, un tovagliolino di carta, un fazzolettino, l'abbiamo fatto tantissimi pezzettini, guardate un po'. Se io strofino questo palloncino con la mia maglia, guardate, eh? Magia magnetica, guardate tutti i pezzi di carta attaccati l'uno all'altro. Incredibile, incredibile. Attenzione. Prendo un piattino, ci metto un pochino di detersivo, con la mia bacchetta magica, che è una cannuccia magica, faccio una bolla. Attenzione, eh? Non aspirate perché ce n'è il detersivo, fatelo fare a qualche adulto questo lavoro qua, eh? Guardate un po'. Si vede? Sì. E scoppiamo? Adesso, non so più, io adesso me lo metto via questo, questo palloncino magico. Lo metto via, non so dove metterlo, voglio trovare un posto che poi domani lo trovo immediatamente. Dove lo metto? Lo metterò qua, top. Va bene? Lo lasciamo lì, eh? Lo lasciamo lì che così poi domani è ancora a posto, eh? Per un'altra magia. Grazie. Grazie.